Futuro e innovazione, due parole chiave che devono guidare la nostra azione. Secondo me non c'è futuro se non mettiamo la parola innovazione in tutte le nostre pratiche. Il mondo è cambiato, anche il nostro fluo di verità è cambiato. C'è bisogno di nuovi strumenti di gestione del territorio, gestione delle pratiche, gestione delle politiche. Ed è per questo motivo che è assolutamente importante riflettere su quali siano le nuove categorie descrittive e progettuali perché anche il nostro fluo di Venezia Giulia ritorni ad essere competitivo e ritorni ad essere una punta di eccellenza così come è stato contraddistinto negli anni passati. Grazie